Ciak! Sono Serena Cammilli e io sono Valentina Cavoli. Sono una delle modelliste di Otto Dam. Faccio anch'io la modellista. Il nostro lavoro consiste nel materializzare il pensiero creativo dello stilista. Cercando di dare il nostro valore aggiunto creando un capo che sia non solamente giusto a livello tecnico ma anche bello da vedersi e piacevole da indossare che esalti le forme della donna. Riuscire a interpretare il pensiero dello stilista perché in realtà non è solamente un lavoro esecutivo. Io sono nata proprio con Otto Dam e sono una delle otto dame. Per me la soddisfazione più grande è aver visto questo brand crescere e farsi conoscere nel mondo. Sapere che io anche in una piccola percentuale ho comunque contribuito alla crescita. Essere riuscita a fare il lavoro che sognavo di fare da bambina. Per me è il fattore umano. Per conto mio c'è un rapporto, io dico sempre, di sorellanza. Magari ci si scontra, si discute, però non viene disgregato il rapporto che c'è fra di noi. Quanto manca? Non me la ricordo agosto? Anzi, non mi ascolto.